Benvenuti in un nuovo video ASMR Ciao, buona visione a tutti per Let's, ciao! Ciao, come state? Spero bene Allora, nuovo video ASMR Purtroppo non li posso fare di notte perché io tento a dormire molto, molto, molto Scusate, mi piace I guess Aspetta un secondo Grazie a tutti. 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 Salute. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.